Oggi 17 dicembre 2009 abbiamo voluto ripetere ad un anno di distanza l'esperienza della videocartolina di Natale per le organizzazioni sindacali. Un lungo percorso abbiamo fatto tutti insieme e più volte le strade dei sindacati si sono incrociate con quelle dei precari e viceversa. La strada però è ancora lunga da percorrere, è piena di pericoli per i precari che senza sosto ormai da anni battagliano per il diritto all'immissione in ruolo. Se qualcuno crede che prima o poi ci arrenderemo è solo un povero illuso perché il fatto è che a tavola nel piatto qualcosa bisogna pur metterla. E basta questo per dire che non abbiamo alternativa se non quella di continuare ad appellarci al governo fino a quando non si deciderà veramente a prendere seri provvedimenti senza mezze scuse, giri di parole su ammortizzatori sociali, su scuola di qualità. Dichiarazioni che il ministro Germini continua a ripetere quasi meccanicamente per convincere l'opinione pubblica che quel che dice risponde a verità. Pauroso il silenzio di alcuni sindacati a queste affermazioni. Adesso faremo un augurio di Buon Natale al Rep e per concludere due canzoni, una delle quali scritta insieme agli studenti di notte sul treno per Roma per la manifestazione di giorno 11 dicembre. Noi precari della scuola ci uniamo in una voce sola, vi è il passato, quello che è stato è stato, da molti mesi con noi procedi, sicuramente per noi intercedi, sarai presto riconosciuto come sindacato che dà aiuto. Noi lottiamo per i diritti, per non subire zitti zitti, un sindacato che si rispetti con i precari a rapporti stretti. Adesso Buon Natale a chiestate eccezionale, Guilme Epifani, Mimmo Pantaleo, Mariella Amaggio, Scozzaro Giusto, Cucima Risa, Ruvolo Gaetano e poi ancora Calogero Guzzetta ed ancora Giovanna Bonafede, eccetti noto Damiano Salmè, Antonia E, Rosario Gutto e se qualcuno non è stato nominato, causa la fretta l'abbiamo dimenticato. A tutti gli altri sindacati, oltre all'agurio di Buon Natale, ricordiamo che la Befana consegna i buoni dolcetti e torrone, a tutti gli altri solo un mucchio di carbone. Nessun lavoro al sud, lasciando il loro cuore, per un po' di lavoro, adesso siamo qui, insieme a protestare, contro la vita indegna che ci tocca sopportare. Berluscon, 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 insieme a Meristar, vuoi la scuola rovinar ma ti devi calmare. E l'università, vuoi privatizzare, un popolo istruito certo non puoi dominare. Brunetta, Spodestar, Tremonti a calcolare, e i poveri precari e gli studenti a protestare. Istruzione, formazione, università, sempre più qualità l'Italia chiederà. Istruzione, formazione, università, sempre meno qualità con voi la scuola avrà. Il ministro è natale per i precari, le bollette da pagare, i ministri stanno lì a governare e l'Italia faranno affondare. Voglion tutti i cretini, per farne dei burattini, voglion tutti i cretini, per farne dei burattini. Triste è nata per i precari, e invece i parlamentari, tutti intenti ai loro affari, se ne fregano dei precari. Vanno in televisione, per istruire l'opinione, che qui tutto va bene, ma ne manciano come liene.